Nuova edizione del telegiornale regionale di canale 81 Lazio. Vediamo le ultime notizie che arrivano dal territorio laziale. Iniziamo dalla cronaca. Gli agenti della Polizia di Stato, della Squadra Mobile e della Questura di Roma hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove persone, di cui sei romani e due della provincia di Reggio Calabria, a cui si aggiunge un cittadino di origini romene. Tutte già conosciute alle forze dei pulizie facenti parte di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico, alla detenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio capitolino, con base operativa nella zona nord di Roma e con contatti con gruppi criminali di stanza in Calabria. Per sette soggetti è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per uno gli arresti domiciliari e per il nono è stato previsto l'obbligo di dimora. La Via Appia entra nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità. L'iscrizione nella lista UNESCO è stata deliberata nella 46esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale riunito a Nuova Delhi in India. La Via Appia, Regina Viarum, diventa così il sessantesimo sito italiano riconosciuto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gualtieri, dagli esponenti della Giunta Capitolina e da quelli dell'Assemblea. Parliamo ora di cinema, due mesi di programmazione, 113 eventi a ingresso gratuito e oltre 60.000 presenze registrate. Sono questi i risultati della Fondazione Cinema per Roma per quanto riguarda le sue attività estive 2024 fino a questo momento. La capitale infatti è stata inondata di cinema all'aperto e proiezioni dall'Arena di Santa Maria della Pietà, alla Casa del Cinema a Villa Borghese, il Parco degli Acquedotti, con la terza edizione di Roma Cinema Arena. Torbella Monaca, Corviale e il Maxi all'interno del suo auditorium. Ponza è anche tua, non è solo uno slogan, ma deve rappresentare per tutti un nuovo modo di essere e di appartenere. Da questi presupposti nasce l'idea del Comune di lanciare MyPonza. Da ieri, 27 luglio, è stato pubblicato online nel sito myponza.it, da cui si potranno attingere tutte le informazioni inerenti al ticket di stanziamento. E chiudiamo con lo sport, in particolare con il tennis. Matteo Berrettini è in uno stato di grazia e si aggiudica il secondo ATP di fila, il terzo stagionale. Dopo Marrakesh Gasta, del 28enne romano, vince anche il Generale Open, che si è concluso sulla terra rossa del tennis club di Kitzbühel tra le Alpi austriache. Con questa vittoria è uguale all'amico Gianni Kessiner per numero di 7 vinti consecutivamente. Con questa notizia concludiamo questa edizione del telegiornale e vi diamo appuntamento a più tardi per i prossimi aggiornamenti.